La posizione è quella di procedere celermente alla riprogrammazione del servizio dal punto di vista anche dell'impiantistica perché l'Abruzzo non può permettersi il russo di andare in emergenza. Ad oggi c'è una volumetria residua autorizzata di circa 800.000 metri cubi con una produzione annua che si avvicina ai 600.000, quindi capiamo perfettamente che il tempo che abbiamo davanti è molto poco. Naturalmente l'esigenza di riprogrammare e di investire sull'impiantistica non può non tener conto dell'esigenza dei territori, delle comunità locali, quindi è necessaria una programmazione che si confronti con il territorio e che concordi con i territori, quello che c'è da fare. Dal punto di vista come sindaci stiamo cercando di recuperare il tempo perso di una regione che è stata una delle prime a intervenire sulla razionalizzazione della gestione dei rifiuti con la legge 36 del 2013, nel 2018 sono stati eletti gli organi dell'Agir, in questi due anni il comune dell'Aquila insieme agli altri componenti del consiglio direttivo si è mosso per cercare di dare una forma giuridica reale e sostanziale all'autorità, all'Agir. Siamo impegnati su questa strada e l'obiettivo è quello di salvaguardare un servizio che è centrale per la vita dei cittadini e soprattutto salvaguardare le esigenze dei cittadini spessi non soltanto in ordine all'efficienza del servizio ma anche relativamente ai costi dello stesso.